buongiorno allora partiamo col torneo, col primo l'inaugurazione si parliamo col torneo dell'inaugurazione sono 32 coppie interessante, figo, il livello è alto basta vedere quello che è vicino trova di un certo level si dice salutiamo Tina, ciao Tina buongiorno Tina mi savo siamo online, siamo pronti, siamo già la numero 2 se c'è scanizza non si prendiamo la pull oggi oggi in po', eh, Jimmy oggi non si prendiamo la pull già che siamo due, non mi piace affatto questa cosa faccia, si fia già e c'è qualcuno che porta noi in pull e io già ho mal di fegato allora esci dall'ombra, vieni qua, buongiorno buongiorno con noi nel colazione del Royal ciao, vediamo dopo saluto tutte le due donne della tua vita saluto le due donne della tua vita ciao mamma ciao mamma ciao il cane che è una donna è emozionato davanti a tutti i ragazzi che aspettano di sapere che cosa c'è alla Royal quest'anno va bene, facciamo un'altra domanda a B allora come va, tornavi a una colazione tornavi a una colazione, niente anche questa qui ma che altro torneo Marco, fai la mia espressione, Marco eh, ma io pensavo che era una foto per quello no, no, devi fare il proprio nero buongiorno 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 ma alla grande eh? alla grande, tanto sole, poco vento cinque campi cinque campi grande, buongiorno buongiorno ecco ciao ciao iniziamo anche Carlotta mangia anche in segretaria si mangia uno è la prima partita oggi sono tipo il prezzemolo no, ma sto sempre in mezzo ma invece Sandorone, saluti quanti per la Royal ciao a tutti ma mi fai un'intervista certo sono oggi importanti ho anche l'auricolare lui ha grossi soddisfazioni ho l'auricolare ma bene allora lui spende Royal l'intervista a Davide, Davide Iovine ha detto sghi è lo sghi grande sghi è lo 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 sghi mi abbraccio il ritorno mi dispiace è tanto dal studio ok si si allora grazie grazie a Davide per quale qual è ? anzi tutto ? la modesta io ho vinto però no il mio compagno è stato bravissimo un po' di fortuna ogni tanto un po' di una riga fortuna no, no, in grillo ci vuole tanta fortuna la prima regola per vincere è tramotesto farsa farsa mario i diritti dei che? cerca di pagare iscrizioni prima poi parla con i diritti e vabbè queste sono già Patrizio, buongiorno guarda Patrizio, ho già stappetto nudo guarda che spettacolo qui Terracina domina questo è il campo di Terracina se mi dici Terracina di Latina vabbè buongiorno John, ero in pausa buongiorno saluto tutti quanti venite la Royal ciao Royal sì e adesso salutate buongiorno buongiorno dobbiamo giocare contro il Ski noi sigarette e caffè noi sigarette e caffè già due sigarette guardate Ski guardate Ski dimmi ma che te stai a scalare sono 20 minuti che ti scalda sono 20 minuti che ti scaldi perché devi giocare contro noi ma sei ridicolo buona gara buona buona gara l'abbiamo fatta scusate è il pre partita non l'avete giocato allora l'onore dell'avversario lo daremo tra un po' comunque noi ci chiudiamo non si dirà la verità scusate grazie Delcattio saluto ai miei fans ma non c'è nessuno no no eeeh cosa pensi? ben tornato accanto brava no c'è le stesse espressioni di tutti gli altri struttori tranquilla sapete quello che dire sapete le idee chiare il livello si sta alzando e quello di giocare nel passato saluto a tutti qui di San Roja ciao aspettare prima riassettate qui no scherzo come prima partita essere spravvissute va bene è questo lo spirito sopravvivere va bene avete mangiato la sabbia? si abbastanza bravi ragazzi ah si allora no e però però è un buy però è un buy perché il cui interno è qua va direttamente in centro e vediamo un cosidio se non è lì va direttamente in centro e lui si va qua e per me va bene allora allora la domanda del giorno è una Buddha 5 o due pull una tre ma una due ma che vai a essere scemo la dieta è franzo dritte mi ha portato il testo la dieta on aid se la scusa è mangiare per far torneo che bastava dirlo ecco chi te becchia al tavolo a piedi pari grande Mario saluto collettivo alla Royal bravi ragazzi devo dovinare chi non ci credo che questo è appesantito beh dall'ombra quasi si fa la ventica il miglior modo per fare una partita stanno dando tutto grazie a tutti Oh, no, no. I had a close shape. The cops tried to lock me down, cuz they broke their found, we stolen. That's how we're rolling. Calvin Clines. No friend of mine, so I don't like more, cause I'm on off. Don't stop me up, like a rolling stone, I leave you so like, I'm on the coconut. Jimmy, I've resisted. Hey Jimmy, Dai, 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 dai Vio è la droga Vio via Velocissimo superlotta, via